C'è un programma di alta formazione che coinvolge esperti internazionali che vengono a posto al Fab Lab di Città della Scienza per insegnare le tecniche di fabbricazione avanzata e hanno a supporto il team del Fab Lab e un laboratorio in cui possono realizzare, una volta acquisite delle nozioni in aula, dei veri e propri workshop dove sviluppano dei progetti di manifattura avanzata. Una delle più importanti innovazioni che proponiamo è la stampa 3D. Poi nel nostro laboratorio stiamo sviluppando una serie di prototipi che sono un estrusore per la realizzazione di manufatti per uso architettonico, estrusori che vanno abbinati a dei bracci antropomorfi di ultima generazione, i cosiddetti cuca, e poi stampanti 3D di ultima generazione che lavorano con delle resine, con dei materiali termoplastici che fondono a temperatura intorno ai 200 gradi e consentono di realizzare dei manufatti e la cosa più importante è che si passa dal progetto direttamente all'oggetto finito. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!